ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video io sono fox ragazzi e questo è il mio garage il mio bunker dove andremo a parlare anche oggi solo per voi di energie alternative ragazzi io punto tanto sulle energie alternative perché a mio avviso sono davvero l'unica speranza per il pianeta terra di poter avere energia per gli abitanti del pianeta terra di avere libertà energetica alquanto possibile ovviamente allora oggi parliamo quali componenti servono in un impianto fotovoltaico e in più se siete interessati a pannelli solari fotovoltaici grazie alla convenzione collaborazione col canale fox tech channel dei grossi fornitori e possono offrirvi grandi grandi prezzi su pannelli fotovoltaici 360 370 400 410 watt dal produttore al consumatore se contattate della mail che c'è qui in sovraimpressione vi farò avere tutte le informazioni vi spiegherò come poter accedere a questi sconti composto da che cosa 1 pannelli solari o moduli ok e se questi si suddividono in mono cristallino poli cristallino o amorfo sono tre categorie tre tipologie differenti di pannello solare fotovoltaico ragazzi il modulo o pannello è formato internamente da tante piccole celle connesse in serie parallelo in base poi ovviamente in base al pannello stesso al voltaggio e alla corrente di uscita poi cosa serve se volete altri video più specifici per esempio sui pannelli scrivetemelo sotto fatemelo sapere mi raccomando iscriviti anche al canale vedremo tanti video molto interessanti se ti piace questo tema e sul canale ce ne sono tanti altri molto interessanti numero 2 inverter allora per l'inverter ragazzi qui dipende da cosa vuoi andare a realizzare si possono diciamo suddividere in off grid cioè fuori rete o in grid dentro la rete cosa li differenzia dall'uso specifico 1 viene escluso dalla rete fornitore energetico cioè sono quei tipici impianti ragazzi delle baide impianti autonomi con pacco batterie dove la rete ok esterna o non c'è o se c'è serve solo come salvagente cioè quando il mio impianto non produce io ho l'inverter che mi preleva la luce dalla corrente l'energia dall'esterno ok però non è un inverter che manda in rete energia perciò se sei per esempio un affiliato che vendi energia col conto energia pianitari fare roba varia potresti anche guadagnarci se vendi energia all'ente fornitore energetico ragazzi e ultimamente pure con questi aumenti che a tanti stanno facendo tremare stanno facendo ragazzi bruciare davvero perché gente che riceveva 100 euro 150 200 euro si sono visti raddoppiare la bolletta energetica quando c'è chi piange c'è anche chi gioisce so di tantissimi che vendono la propria energia che hanno triplicato l'introidi perché perché l'ente fornitore energetico gliela paga molto di più poi abbiamo che cosa 3 tutti i cavi cavetteria 4 struttura dei pannelli perché ovviamente i pannelli si devono ancorare e per la struttura dipende ci sono le strutture per terrazza che sono quelle con inclinazione più o meno angolata sono fatte in ferro alluminio alluminio o anche in cemento ultimamente delle aziende italiane anche o estere stanno puntando alla produzione di supporti in cemento studiati appunto con una sorta di inclinazione che ti funzionano sia da struttura che da zavorra perché ragazzi il problema dei pannelli qual è se io vado a montare un pannello solare perché ragazzi oggi i pannelli sono grandi hanno grandi davvero dimensioni questo cosa può far succedere mettiamo il caso che questa sia la struttura ok perfetto lo ancoriamo su questa struttura questo è il pannellino con le cellette ok e questo è un tubolare per esempio di ferro al che mi viene il mio pannello solare inclinato ovviamente sono più di uno che solitamente quando si installano i pannelli su un terrazzo se ne installano un paio perciò mettiamo le linee così facciamo finta che sono molti di più qua un altro qua un altro comunque inclinazione più o meno inclinati il problema cos'è ragazzi il problema è il vento perché questi pannelli essendo grandi larghi devono poter resistere alla forza del vento perché se il vento soffia ragazzi forte ma forte forte disegno una nuvoletta con una bocca gli occhi se il vento soffia ok e arriva qui giù e dà davvero una velocità una potenza distruttiva cosa può fare può sollevare verso l'alto tutti i pannelli per questo tanti nello standard cosa fanno oltre ad utilizzare delle strutture belle solide pesanti vengono ancorate per terra allora pro e contro per l'ancoraggio a terra con tasselli belli grossi vidi bulloni no vidi bulloni belli grossi potrebbe essere ragazzi il problema di infiltrazioni perché ovviamente qui tu hai una terrazza sotto questa terrazza sotto il tetto c'è un appartamento per esempio una camera da letto un bagno un salone c'è comunque un appartamento se io vado a mettere i miei bufaccio i fuori ok in terrazza perciò foro le mattonelle vado a mettere un tassello due tasselli tre tasselli perché ragazzi devono essere davvero davvero fissate bene per evitare appunto che volino via e che facciano danni a case persone auto evitiamo complicanze abbondiamo di tasselli può succedere sempre che quando piove qui ristagna l'acqua e piano 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 l'acqua scende e poi ci sono infiltrazioni umidità nel tetto oggi vi stavo dicendo che delle aziende si stanno movimentando per creare una sorta di struttura in cemento che è proprio uno e allora li realizzano di varia forma per esempio così così ok con questa inclinazione x o ancora sono impilabili uno accanto all'altro così da realizzare un mega supporto per pannelli per esempio questo altezza x ok qui ne vai a mettere un altro più alto che cosa fai quando fai questo ragazzi tutto in cemento perciò pesantissimi fungono bene da zavorra io vado a mettere un pannello qui sul primo e qui cosa succede questo qui viene fatto uno gradino un po più ecco più piccolino che ti permette di andare a interconnettere un altro pannello così il mio disegno non è perfetto però vi faccio capire ecco questo arriva qui perfetto così il pannello appoggia qui con la struttura in cemento qui con la struttura in cemento qui con la struttura in cemento e anche qui per tutta la sua larghezza da facendo così ragazzi come puoi ben vedere avendo questi grandi blocchi di puro cemento pesantissimo l'impianto tutto imbullonato perché voi questo con questo li imbullonano fanno delle sorte di interconnessioni uno con l'altro cosa succede che questo diventa tutto un mega blocco e questo mega blocco se per esempio io ho necessità di installare ancora più pannelli ok io posso farlo crescere cioè questo sistema è un sistema modulare ragazzi quando l'ho visto mi è piaciuto tanto e infatti mi volevo informare sui costi ecco qua vedi questo mettiamo il caso sia un altro pannello anche se non è così va bene facciamolo così bello rettangolare ok rettangolare perfetto cosa succede qui sempre base appoggiata a terra questo sale sale fino a sopra scende fa così fa così ok come vedi questo è un altro pannello ancorato ragazzi così io mi sono fatto tre strisce di pannelli tutte vicine perciò da crearmi un mega pannellone fotovoltaico tutte ancorate uno con l'altro bullone bullone normi ovviamente ragazzi qua ci sono mille mila chili ovviamente anche su questo punto bisogna stare attenti perché un pannello solare fotovoltaico può pesare all'incirca una ventina di chili parliamo di pannelli da un metro e 70 per 90 e qualcosa ecco solitamente i 370 watt 360 400 watt di pannello hanno circa questo peso poi se andiamo a prendere i 500 watt 530 watt 540 watt hanno un peso molto più alto però facendo così avrai per esempio in questo caso tre soli pannelli 20 40 60 kg di solo di solo pannello e ragazzi 60 kg è qualcosa meno di me una botta di vento considerando la forma che una vera e propria vela se il vento entra da qui potrebbe potrebbe farli volare 5 5 regolatore di carica perfetto il regolatore di carica ragazzi perché non lo avevo messo perché solitamente gli impianti fotovoltaici quelli buoni lo hanno implementato nell'inverter però sempre ragazzi attenzione bisogna vedere che impianto se un impianto off grid allora sì l'inverter avrà anche il regolatore di carica off grid vuol dire disconnesso dalla rene perciò accumulo l'impianto non ha solitamente l'accumulo perché ciò che produce manda in rene non accumuli perciò qui non accumuli qui invece accumuli anzi al contrario sotto in grid non accumuli qua si accumuli ok tanti mi dicevano nel passato video quello del micro inverter in grid cioè connesso in rete ma perché non posso collegare io un pacco batterie così mi ricarico la batteria allora numero uno quel micro inverter è connesso a rete plug in ok lunghe play cioè tramite una presa connette all'impianto di casa ciò che ti produce lui ti manda in circolo puoi perché no ricaricarti un pacco batterie però ragazzi in uscita quell'inverter a 230 volt come ricarichi un pacco batterie da 24 volt deve utilizzare un caricabatterie opportuno se lo vuoi fare non vuoi fare certo che lo puoi fare però e poi che te ne fai almeno che non vuoi ricaricare un monopattine elettrico ecco una bici elettrica puoi ricaricarlo dici io sfrutto il sole mi ricarichi il monopattine elettrico ma un pacco batterie connesso a cosa potresti utilizzare un inverter secondario è un po un casino ecco quello nasce per un uso semplice look and play installi allunghi un cavo metti la presa ciao se volete vedere anche di questo qualcosa in più facciamo magari un bello schemino un qualcosa scrive meno sotto e fammelo sapere ti ricordo sempre di iscriverti al canale se non l'hai fatto fallo ragazzi e in più se siete interessati a pannelli solari fotovoltaici grazie alla convenzione collaborazione col canale fox tech channel dei grossi fornitori e possono offrirvi grandi grandi prezzi su pannelli fotovoltaici 360 370 400 410 watt dal produttore al consumatore se contattate la mail che c'è qui in sovraimpressione vi farò avere tutte le informazioni vi spiegherò come poter accedere a questi sconti ragazzi niente per questo video è tutto alla fine questi sono i componenti di un impianto solare fotovoltaico poi c'è ovviamente la protezione ci sono i fusibili ci sono gli scaricatori e ci sono tante altre componenti minime e poi ovviamente attenzione c'è la batteria batteria col regolatore di carico che abbiamo detto prima però questa batteria non va sempre ok non va sempre in base a quale tipologia di impianto fotovoltaico vuoi andare a creare sappi che se fai un impianto fotovoltaico ad isola serve la batteria se il tuo impianto fotovoltaico non è a isola ma è connesso in rete ragazzi quello un po più complesso perché ti servono più certificazioni comunicazioni a lente è più seccante e poi è buono solo se vuoi vendere energia se vuoi produrti accumulare ed essere distaccato dalla rete e allora punta sull'impianto ad isola mi raccomando ciao e al prossimo video